Buongiorno a tutti e grazie di essere qui, scusate il ritardo, abbiamo avuto un problema tecnico perché abbiamo avuto un last minute problem in tempi di Covid è evidente con un paio di relatori, stiamo cercando di collegarli dall'esterno, era previsto che fossero in presenza oggi. Io sono Marco Falsetti, sono il direttore dell'Apre e ringrazio voi di essere qui, ringrazio sia la componente dei rappresentanti degli RCCS, chiaramente dell'industria, ringrazio i nostri relatori, chiaramente avremo diversi relatori che si alterneranno oggi, quindi a un ringraziamento generale, ma poi li ringrazierò personalmente mentre li chiamerò anche per la seconda tavola rotonda. Abbiamo una giornata molto piena, una giornata che stamattina fondamentalmente parte con un ragionamento un po' sistemico sulla problematica che vogliamo affrontare in questa giornata di oggi, che è un evento a tutti gli effetti di brokeraggio. Quello che faremo stamattina in realtà non è un brokeraggio, o comunque non è la prima parte della mattinata, però faremo un ragionamento di inquadramento del problema. Oggi questa giornata nasce all'interno di un'attività che il Ministero ha lanciato con i suoi RCCS e che viene in collaborazione con Apre questa attività, faccio recente al progetto Iris, ma in realtà oggi è qualcosa che andiamo oltre perché quella giornata di oggi, se volete, richiama un po' quello che abbiamo fatto nel 2019, quindi pre-covid, eravamo ancora qui in questa, in questa, non solo in questa sala ma anche nelle sale intorno del Ministero, per fare un qualcosa di simile, cioè per ragionare ancora con un incontro tra sistema di ricerca in campo salute nazionale, in particolare quello degli RCCS e il sistema industriale dall'altra. Quindi che cos'è questa giornata? È una giornata, se volete potete dargli tante etichette, parliamo di networking, parliamo di brokerage, parliamo di trasferimento tecnologico. È una giornata nel quale vogliamo riflettere ancora un attimo su quello che è la problematica di unire due mondi che sono estremamente importanti se lavorano insieme in un contesto di ricerca e sviluppo, soprattutto se parliamo in un'ottica di innovazione e questo è quello che fondamentalmente oggi è l'oggetto del discutere. Io ho una brevissima presentazione che è questa qua, ma in realtà i tempi sono andati, quindi taglierò velocemente solamente due o tre slide per dire. La giornata è stata preparata con una certa, o meno, noi abbiamo provato a ragionare con una certa sistematicità e metodologia nel presentare, nel preparare questa giornata al meglio. È chiaro quindi che dovendo essere una giornata di brokerage è quello che abbiamo fatto, è cercare di creare una condizione di meet together tra domanda e offerta. Quindi partendo da quello che era un'offerta di tipo scientifico da parte degli RCCS, siamo andati a cercare di metterlo insieme per quanto possibile alle eventuali interessi e attese del mondo industriale. Andando veloce, mi rendo conto, mi scuserete. Le aree che abbiamo evidentemente coperto, chiaramente le aree non erano state definite a priori, sono state un qualche cosa che si è definito nel corso dell'opera in relazione a quello che è stata la domanda di offerta ed eventualmente di proposta. Io non sono un ingegnere aeronautico, immaginate quanto sia distante dalla cultura medica, però insomma vorrete leggerle e per voi sono sicuramente molto più autoesplicative di quanto non siano per me. Quello che mi viene da dire è che evidentemente abbiamo uno spettro abbastanza grande comunque di problematiche tecnico-scientifiche. Questi due giorni che apre Farma Industria, ha organizzato qui, chiaramente sotto la benedizione del Ministero che ha avuto la gentilezza di ospitarci, fondamentalmente si svolge, lo sapete, in due giornate, oggi e domani. Oggi ci concentreremo essenzialmente sulla questione Farma, domani faremo un po' più attenzione, anzi sarà dedicata alla dimensione dei dispositivi medici. Fondamentalmente però si ripetono, insomma il format è esattamente lo stesso, cambiano gli interlocutori di settore. Qualche numero riguardo ad oggi, questi sono i numeri che abbiamo portato a casa oggi, questi sono i vostri numeri, siete voi che avete riempito questi numeri, come vedete abbiamo 36 offerte di collaborazione che hanno portato appunto a quella sorta di catalogo di offerta che è stato intercettato, 25 enti di circa coinvolti, 20 RCCS e chiaramente questo è stato poi fornito al sistema industriale per una sua presentazione e quindi sperando che queste aree di ricerca e di attenzione possano trovare evidentemente dall'altra parte un interesse. Io praticamente vorrei fermarmi qui in questo momento, torniamo all'agenda e cominciamo questa prima sessione in una maniera un pochino istituzionale e quindi io non dovrò fare tante domande, forse qualche domanda più interessante potrebbe essere nel secondo round di Tavola Rotonda. abbiamo qui rappresentanti chiaramente di tre ministeri che sono e di alcune altre realtà importanti sperando sempre che riusciamo a collegare anche i nostri colleghi esterni, abbiamo evidentemente il ministero della salute, il professor Ippolito, il dottor Didonato, il ministero dell'università e della ricerca e il dottor Montemagno, il ministero dello sviluppo economico. Perché cominciamo da qui e chiaramente finiremo questa con Marco Zibellini e Paolo Bonaretti che non vedete in questo momento perché sono le due persone che purtroppo hanno avuto dei problemi a raggiungerci, quindi cercheremo di tenerli nel loop in via informatica, speriamo poi che questo ci riusciamo, ancora stanno predisponendo alcune cose. Allora non c'è una domanda per voi, evidentemente abbiamo chiesto ai nostri amici del ministero di fare un po' il punto della situazione su quello che è la problematica del trasferimento tecnologico e come nell'insieme, credo che sia qualcosa che emergerà anche dalle vostre presentazioni, in maniera più organica forse che anche in passato, si sta cercando di affrontare questa questione. Direi chiaramente di dare la parola al padrone di casa, al professor Ippolito, quindi Giuseppe, the floor is yours, come si dice in questo caso. Io non sono padrone di casa di niente perché è lo Stato il padrone di casa, comunque grazie di essere venuti io proverò a sintetizzare prendendomi qualche minuto quello che stiamo facendo e soprattutto quello che per la prima volta stiamo facendo insieme al ministero dell'università e al ministero dello sviluppo economico. Qualche mese fa il direttore dell'NIH che dice andandosene via pubblicò un magnifico editoriale su Nature dicendo perché si spendono tanti soldi, si pubblicano tanti lavori ma non aumenta realmente il benessere delle persone. Uno dei punti che lui metteva in questo editoriale è che noi abbiamo fatto tanti programmi, abbiamo fatto un grande progetto di genoma umano a cui tra l'altro l'Italia partecipa in maniera consistente eppure negli ultimi 12 anni i vantaggi non ci sono. Un po' perché c'è un problema di trasferimento di queste conoscenze a chi poi le deve sviluppare che sono le aziende un po' sull'analisi di quelle che sono i reali modelli perché questo avvenga. L'Ocse recentemente facendo l'analisi comparativa degli investimenti per ricerca fa vedere come in Italia pur non andando malissimo in termini di finanziamento di ricerca la quota salute è sicuramente una quota ridotta. In questo contesto il Ministero della Salute è come voi sapete deputato un po' diversamente dal MUR a promuovere e gestire la competitività dei ricercatori in ambito salute a TRL ovvero sia a livello di maturazione più avanzato rispetto a quelli del muro. Ecco perché era necessario definire un modello di accordo e cercare di capire come questo si trasforma in beneficio per i cittadini. Dal momento che i soldi del Ministero della Salute sono il 51% di tutti i fondi competitivi del Paese e dove gli altri veri fondi competitivi li mettono alcune organizzazioni non profit, quando il totale del fondo della ricerca è per il 17% in questo Paese del Ministero della Salute, il 50% di quello competitivo il ragionamento va sicuramente fatto. Quindi siamo contenti che gli IRCS e il merito non è mio ma è di chi mi ha preceduto e in particolare vorrei dire del Dottor Guglielmi che è il controllore che il sistema funziona. Senza il Dottor Guglielmi che è il cane da guardia perché il sistema funzioni questo apparato non avrebbe mai funzionato e con tutto ciò l'avete letto nel rapporto che è stato presentato all'Accademia dei Lincei noi continuiamo a essere il terzo Paese per prodotto scientifico e per volume di pubblicazione il sesto per citazioni. Quindi nel rapporto a Maldi la salute esce meglio di quello che è l'investimento. Quindi negli ultimi cinque anni che erano anni poveri questo Ministero ha messo oltre un miliardo e mezzo con un trasferimento ai giovani e soprattutto coprendo un'area di conoscenza che è la più ampia possibile. Il Ministero a parte alcuni progetti speciali lascia ampia libertà ai ricercatori che competono su base puramente di qualità attraverso un circuito di revisori stranieri. Quando andiamo a discutere come spostiamo queste in aree prioritarie della ricerca e dividendole secondo uno schema anche questo che noi non abbiamo ci sono inventato ma è uno schema dell'OECD abbiamo aree ad alta potenzialità, aree a esclusiva traslazionalità, aree a bassa traslazionalità ma sicuramente competitive ed aree consolidate. Questo può funzionare attraverso non solo la rete dei 52 IRCS che oggi garantiscono un volume di pubblicazione ma fanno quasi 700.000 ricoveri l'anno quindi una popolazione che può essere utilmente gestita, può essere un modo per interfacciarsi in tutte le aree della medicina tra le aziende, i ricercatori e la parte clinica. Molto si dice in questi giorni dei decreti delegati sulla sperimentazione ma senza un modello organizzativo discendente i decreti potranno fare veramente poco. Quindi dal modello di competitività al giocare a carte scoperte sull'uso di informazioni etiche, gestione dei dati e su questo ministero proprio ieri c'è stata la concertazione insieme al ministero dell'università per i datalics della ricerca e il dottor Vigiano che coordina questo tavolo dell'istituzione del centro che avrà carico di autorizzare questo dato sì e questo dato no ai sensi dell'attiva comunitaria che speriamo di portare a casa entro la fine dell'anno. Il modello di gestione dalla scoperta al sviluppo di un ecosistema, l'ecosistema va molto di moda ma l'ecosistema in questo settore è un ecosistema che noi abbiamo copiato brutalmente da un'analisi che fece Flyer due anni fa e che era a sua volta veniva da un'analisi fatta dieci anni prima. Quindi l'Accademia a chi fa ricerca ha l'obiettivo di una ricerca che sia una quota fondamentale e una quota di trasferimento, di promozione di queste attività perché servano ad ottenere soldi dall'altro le aziende farmaceutiche, le biotech company hanno l'impegno di valutare quello che gli viene proposto, di stimolare anche con l'aiuto delle associazioni dei pazienti prove di efficacia che siano vere e non che siano promosse da fake news che uno va sul giornale ha scoperto il gene dell'unghia carnita e dopo quel gene non ne parla più. Tenendo presente che solo il 36% del prodotto di ricerca è stato considerato in un'analisi fatta dal governo inglese realmente utile alla salute dei pazienti. Quindi non dobbiamo fermarci su questo. Dobbiamo pensare che l'apertura è come se noi stessimo lanciando una rete, abbiamo bisogno di integrare i benefici dei singoli con il beneficio della comunità e con i benefici delle aziende perché nessuno fa beneficenza, anche chi lavora per pubblico spesso non fa beneficenza. Quindi promuovere un modello di ricerca di base di trasferimento, integrare questo in un discorso di sanità pubblica, capire che cosa è realmente diagnostica e diagnostica utile, andare a un sistema clinico e di controllo. Molti sono gli esempi che non hanno funzionato in questo periodo. Da questa operazione è nato l'allineamento con il Mure e con il Mise di cui i colleghi vi parleranno e che ha visto la firma dell'accordo tra i ministri il mese di gennaio perché è indispensabile da un lato evitare duplicazioni, dall'altro far sì che le applicazioni diventano pratiche e possano andare sulla ricerca. In particolare noi abbiamo in questi ultimi mesi chiuso una rilevante quantità di progetti che sono a partire dai più di 100 milioni che mettiamo di ricerca finalizzata a una quota di 160 milioni, correggimi Gaetano se sbaglio, di ricerca corrente ma soprattutto abbiamo deciso di aprire i nostri bandi, noi di più rispetto al Mure che è stato più conservativo e meno generoso, a chiunque. Noi abbiamo aperto i bandi a chiunque, pubblico, privato, aziende, università e così via. Attualmente noi abbiamo bandi sulle malattie rare per 50 milioni che spero fruttino qualcosa e soprattutto con un'alleanza che possiamo fare con i major player di chi finanzia la ricerca in questo discorso, anche se su questo discorso delle malattie rare è necessario fare un po' d'ordine, molti non hanno idee chiare di che cosa sono le malattie rare. Abbiamo fatto un bando per 170 milioni di malattie croniche non trasmissibili, diviso per questo giro a fattori rischio e prevenzione e uno per eziopatogenesi e 50 milioni di proof of concept. Proof of concept sono il primo dei modelli di integrazione che possiamo avere con le aziende. Faremo un altro bando di 50 milioni di tumori rari e 170 milioni in ambito di innovazione diagnostica in campo terapeutico con ulteriori soldi in questa area. Per il trasferimento tecnologico abbiamo concluso la valutazione dell'ammissibilità delle candidature ai centri SPOC. I legali rappresentanti sono stati convocati per domani alle tre per avere notizia di come si organizzano ma un'informazione vale per tutti e spero che Bonaretti ci senta e che possa poi intervenire dopo perché non vogliamo fare megaprin, non vogliamo avere le stesse difficoltà che hanno avuto nel definire partenariati che diventano troppo ampi nelle faide tra la gente. Solo chi merita deve andare dentro e chi fa il coordinatore deve sapere che questa è la grande scommessa. Da ultimo abbiamo ancora aperti 962 progetti di ricerca finalizzata che il dottor Guglielmi sta gestendo con revisori internazionali. Di questi ben 420 sono relativi a giovani ricercatori. 170 sono grant iniziali, solo 7 sono cofinanziati dalle aziende. Uno si deve chiedere come mai non ci sia una corsa al cofinanziamento e i cofinanziati fanno caso soprattutto a qualche gruppo che ha la capacità di cofinanziare. Quindi su questo discorso noi abbiamo una prospettiva negli anni a venire di avere un gran numero di finanziamenti ma è necessaria un'integrazione di competenze evitando per quanto possibile le duplicazioni. Grazie. Ringrazio il professor Ippolito soprattutto perché ha aperto bene sugli altri due interventi perché c'è una coralità, a questo punto ci aspettiamo di messaggio che dovrebbe essere trasversale a tutti e tre i ministeri. Seguendo l'ordine, puramente l'ordine della scaletta, direi di dare la parola al dottor Didonato. Antonio, se tu hai bisogno di avanzare con le slide... Eccolo qua. Che ha delle slide bellissime, devo dire che ha tutta la mia invidia. Buongiorno a tutti. Cercherò di utilizzare al meglio il tempo che ho a disposizione. I contenuti sono tanti, però l'intendo è quello di darvi una panoramica complessiva di tutte le iniziative che il Ministero dell'Università di Ricerca gestisce nell'ambito del PNRR sia sulla componente 1 che sulla componente 2 della missione 4. Come sapete il PNRR MUR vale oltre 11 miliardi di euro, di cui 2 miliardi a sé sulla componente 1. Non va il tuo file. Il file è corrotto. Ah, bene. C'è stato il sabotaggio. Non me lo apre. Dispiace. Glielo posso rimandare? Sì, glielo rimando. No, ma se ce l'ha su una pennina volentieri. Sulla pennina ce l'ho, è da quello che le avevo dato prima. Sì. Se no glielo mando per mail. Per due, ma... Sistemi di sicurezza molto... Beh, sistemi di sicurezza non lo s'accederemo. No, no, ma ce l'ho, poi, insomma, devo dire... Non guardate me il piccetto del ministero. Neanche io piace la pernetta. No, sto per davanti. No, no. È che è un po' datato il piccetto. Eh, un po'. Decisamente. Allora, proviamo. Vuole che glielo mando per una mail? Sì, però deve essere una mail che poi possiamo recuperare su questo PC. L'account deve essere del ministero per forza, quello del collega di prima. Sì, non ho accesso. Sì, però ci mette troppo. No, che non mi rivela proprio la venina. Sto volendo. Ha rivela la rivela, se no non partiva con la scansione. Ecco, si parte. Eh, ma ancora non vedete il dispositivo? Aspetti un attimo. Forziamo un attimo la situazione. Ci dispiace fare questa figura. L'idea che attaccate l'HTMI del mio computer non esiste, eh? Sulla rete del ministero. Questo funziona? No, no, metto il dubbio. No, ma ce li ho, c'è un po' stampato. Ma questo è senza i veri. Scusi, tu hai sabotato. Tu volevi che vedessi le slide che io ho preparato. No, no, la mia è grande invidia. Ma poi vi sto abituando a parlare su questo slide perché secondo me è più efficace parlare su questo slide. Giuseppe, io faccio un atto di terrorismo informatico. Prendo l'HTMI e l'attacco sul mio computer. Tu non guardare. Eh, no, non credo che ci abbiamo un'HTMI. Come non c'è un'HTMI qua? Sì che c'è un'HTMI. Certo, ci avranno uscita un'HTMI. No, no, no. Non c'è un'HTMI. No, è diverso da fare. Io lo canto. Non è un'HTMI. Non è un'HTMI. Mi devo arrendere alla impenetrabilità del ministero. Vogliamo invertire il frattempo che troviamo una soluzione. Proviamo, esatto, facciamo così. Intanto proviamo con l'intervento MIS. Allora, vediamo se parte almeno l'altra. Potete mettere su un'altra pennina. Questa non me la legge. Dobbiamo recuperarla una pennina. Allora, vediamo il prossimo. Che ci dà una pennina in uso. Allora, intanto risolviamo il problema tecnico. Allora, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vado? Vai, vai, visto che la presentazione, ma la vedono loro? Allora, intanto un ringraziamento al professor Ippolito per aver organizzato questo momento che dà la possibilità anche al MISE di illustrare tutte le iniziative che le ha già appunto citate alcune, tutte le iniziative che abbiamo in questo momento in essere nel settore sanitario in senso lato col Ministero della Salute e anche col Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica. Vediamo come si va avanti. Qualche slide era per tenere un po' il filo del discorso. Sappiamo tutti che prima la pandemia e poi il conflitto russo-ucraino hanno messo in particolare evidenza tutte le carenze da un punto di vista di approvvigionamento anche nel settore sanitario di dispositivi anche diciamo abbastanza semplici come possono essere dispositivi medici o dispositivi di protezione individuale. Io fino a non molto tempo fa facevo un altro mestiere, stavo, ero direttore in Dogana e quindi vi posso dire tutte le difficoltà che ci sono state per acquistare sia le mascherine FFP2 e P3 ma anche appunto queste che abbiamo adesso, queste chirurgiche e diciamo si è cercato di tamponare una situazione chiaramente di emergenza che ha visto diciamo un po' tutti i paesi non particolarmente organizzati. Però ripeto, questo ci ha dato modo di far emergere come le nostre filiere produttive in determinati settori e anche in questo settore sanitario fossero diciamo particolarmente deboli. Tra l'altro il conflitto russo-ucraino ha messo ulteriormente in evidenza come noi dipendiamo dall'estero in modo eccessivo sia da un punto di vista di fonti energetiche che da un punto di vista di materie prime. Quando si parla di materie prime, materie prime sia cosiddette critiche che materie prime proprio che servono, sono basilari per le nostre diciamo industrie. E qui il collegamento con appunto una politica industriale che riesca ad individuare quali siano diciamo chiamiamole falle, quali siano le lacune nel sistema per cercare di far sì che diciamo l'Italia e in senso lato anche l'Unione Europea siano un po' più come si può dire autonome rispetto a determinati settori. E il settore sanitario è un settore, viene considerato chiaramente un asset strategico da un punto di vista diciamo anche industriale per cui occorre diciamo fare in modo che ci si renda un po' più autonomi e che la dipendenza dall'estero diciamo sia sempre più ridotta. Quindi questa slide viene citato appunto il piano nazionale ripresa residenza, fondi nazionali, vedete sono veramente molti molti miliardi che sono messi diciamo a disposizione delle aziende. La prima cosa che voglio dirvi è che alcuni, anzi quasi tutti questi fondi sono diciamo trasversali, cioè sono orizzontali nel senso che vengono diciamo dati a prescindere dai settori di cui parliamo e quindi anche il settore sanitario. Poi ci sono quelli che sono specifici per il settore sanitario e ne parleremo appunto tra poco. Addirittura noi ci siamo resi conto che sono talmente tante le misure di agevolazioni, sostegni, i contributi a fondo perduto piuttosto che appunto altri strumenti giuridici come sono gli accordi di innovazione, i contratti di sviluppo che le aziende piccole o meglio grandi spesso si trovano un attimo in uno stato diciamo confusionale e non riescono a capire quali siano quelli che si adattano di più alle loro esigenze da un punto di vista chiaramente diciamo produttivo. Tant'è che proprio il 2 giugno è stato diciamo inaugurato nel sito del Mise c'è un link che è denominato proprio incentivi con vari diciamo strumenti di ricerca per cui è possibile per le aziende accedere e diciamo interrogare il sistema per capire quali siano tutti questi strumenti. D'altra parte abbiamo fatto anche parecchie riunioni con le associazioni di categoria rappresentative chiaramente maggiormente rappresentative del mondo economico per far sì che questa opera diciamo di diffusione di divulgazione di questi strumenti sia il più possibile capillare. I giornali parlano quasi sempre degli stessi, l'eco bonus, anche l'eco bonus è gestito dalla mia direzione che ha diciamo parecchi fondi da gestire, quello è quello che fa più notizia però oltre all'eco bonus per l'acquisto di macchine motorini che siano elettrici che siano con motori endotermico e ce ne sono poi diciamo talmente tanti altri è che il rischio è addirittura che non vengano spese tutte queste somme e non vengono appunto destinate al mondo produttivo. Questo appunto diciamo che queste servono per dare un attimo diciamo il panorama sulla catena di approvvigionamento è diciamo quello che dicevo poc'anzi è che il covid ha mostrato sicuramente diciamo delle carenze. Se ricordate c'è stata appunto una prima fase in cui nel momento in cui la Cina aveva bloccato le spedizioni dai propri porti destinati all'Unione Europea, beh questo ha creato delle ripercussioni diciamo su tutto il sistema di approvvigionamento per cui ci sono stati anche fenomeni di accaparramento. Quando un determinato prodotto è particolarmente richiesto in senso diciamo in questo caso in senso diciamo globale assistiamo a fenomeni e di panico collettivo e di accaparramento da parte appunto anche di altri paesi. Non è appunto un mistero che alcuni paesi hanno come la Turchia hanno bloccato le spedizioni che erano destinate all'Unione Europea e alcune di queste erano destinate anche in Italia. Allora lo scenario attuale quindi è quello che l'obiettivo è quello di rafforzare chiaramente la capacità dell'Unione Europea e in questa slide ho citato quello che è l'Open Strategic Autonomy cioè proprio documento chiaramente a livello di Commissione Europea che recentemente appunto a maggio cioè recentemente il documento è del maggio 2020 ma è sempre più importante come punto di riferimento perché l'obiettivo è quello di ridurre le dipendenze diciamo le dipendenze strategiche. Tra l'altro ancora più importante in quanto dicevo a seguito il conflitto russo-ucraino si sono emerse sono diciamo evidenziate anche tutte le dipendenze sia nel settore energetico nel settore di approvvigionamento delle materie prime. Le filiere produttive chiaramente la filiera appunto sanitaria è una di queste è già stata sottolineata all'importanza del settore sanitario in Italia che è sicuramente molto a molto ben strutturato e quindi vanta sicuramente diciamo delle punte di eccellenza però però abbiamo appunto delle problematiche rispetto anche alla ricerca farmaceutica perché in Italia si investe sempre molto poco nella ricerca rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea e rispetto anche poi di conseguenza alla produzione di vaccini. Qui possiamo andare appunto avanti e possiamo introdurre il tema dell'IPCEI. Il professor Ippovito ha citato l'atto che è stato firmato dai tre ministri a fronte di questo nei mesi scorsi è stato firmato dalla mia direzione, dalla sua e dalla direzione del Ministero Universitario di Ricerca Scientifica un appunto convenzione, un accordo convenzionale proprio per gestire al meglio il progetto IPCEI salute. Si è pensato di sfruttare l'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che dà la possibilità di utilizzare questo strumento. Gli IPCEI sono di progetti diciamo di una certa rilevanza di comune interesse europeo e attraverso questi progetti diciamo l'IPCEI salute è quello che è nato per ultimo. Abbiamo una pregressa esperienza su altri IPCEI che vengono gestiti in questo caso appunto dal MISE e cioè quello sull'idrogeno, quello sulle batterie e anche quello sulla microelettronica. Beh, quindi forte di questa esperienza visto che ci crediamo in questo strumento che consente è di diciamo far sì che le migliori realtà produttive da un punto di vista supportate chiaramente nel settore sanitario dalla ricerca. Quindi la ricerca e lo sviluppo sono sicuramente diciamo in prima fase, in prima come si MISEI devono avere la caratteristica di portare un qualcosa di innovativo ma non soltanto da un punto di vista produttivo, anche da un punto di vista che so, di innovare particolarmente un determinato processo produttivo. Ebbene, viene data la possibilità alle aziende di presentare queste manifestazioni di interesse, poi c'è tutta una delle fasi diciamo di scrematura di questi progetti, di approvazione di questi progetti, i quali poi vengono diciamo trasferiti, trasmessi alla Commissione Europea e che farà poi le diciamo giuste valutazioni ma non perché ci sia qualche progetto che sia dichiarato vincente rispetto a un altro, perché è diciamo l'obiettivo è quello di mettere in sinergia e far collaborare le aziende appartenenti ai vari paesi che hanno partecipato all'IPCEI. Il paese capofila dell'IPCEI salute è appunto la Francia. Noi siamo adesso in questo momento nella fase in cui avendo ricevuto le manifestazioni di interesse attraverso le commissioni di esperti da un punto di vista tecnico-scientifico che sono stati diciamo individuati e messi a disposizione dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Università di Ricerca Scientifica, quindi siamo appunto iniziati a questa fase delle valutazioni. Le valutazioni saranno sia tecnico-scientifica che da un punto di vista anche industriale e questo sarà compito in particolare del Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi questa è la vera frontiera e si può dire che è il punto massimo di collaborazione dei tre Ministeri. Noi ci crediamo molto in questi progetti perché la finalità è quella, come vi dicevo poc'anzi nella premessa, di rendere sempre più autonomo l'Unione Europea in questo settore sanitario e quindi di ricreare delle filiere produttive in modo tale che in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo tutt'oggi non ci sia questa eccessiva dipendenza dai paesi terzi. Faccio poi una piccola parentesi per farvi rendere conto di cosa parliamo. Quando prima parlavo conflitto russo-ucraino, problematiche di approvvigionamento delle materie virali, perché considerate che se non viene risolto il problema energetico tutto ciò di cui stiamo parlando adesso sta a valle e quindi il problema dei problemi è il problema energetico. Noi possiamo dare contributi anche a fondo perduto, sovvenzioni, agevolazioni, miliardi e miliardi, ma se poi non viene risolto il problema energetico rischiamo sì di dare dei palliativi che fanno sopravvivere le aziende ma non risolverlo il problema primario. Attualmente i paesi da cui stiamo andando a prendere le materie prime da un punto di vista delle fonti energetiche, si parla di petrolio e di gas, sono paesi che non hanno una stabilità politica proprio cristallina e quindi se non facciamo qualcosa di più per renderci autonomi e per sfruttare quello che abbiamo qui, a cominciare dall'Italia, ci ritroveremo sicuramente in posizioni, in situazioni diciamo piuttosto critiche. Allora andiamo rapidamente perché altrimenti mi sto mangiando tutto il tempo, questo l'abbiamo già detto, ecco un cenno sul piano transizione 4.0, allora negli svariati miliardi messi a disposizione non soltanto dal piano nazionale ripresa e resilienza ma anche dal piano transizione 4.0 che è quello che riguarda tutta la parte di innovazione tecnologica. Qui abbiamo i poli l'European Digital Innovation Hub, abbiamo i Competence Center per farvi capire che sono tutte realtà che anche nel settore sanitario sono importantissime perché costituiscono e costituiranno dei punti di riferimento non soltanto per la ricerca scientifica ma anche perché avranno poi delle ricadute nel settore industriale. Quindi questo è fondamentale perché quello che stiamo facendo, e questo vale anche per l'Ipcee Salute, non sono degli esercizi di stile o degli esercizi teorici, tutto questo poi dovrà trovare una ricaduta a livello industriale. Viene utilizzato sempre più spesso il termine reshoring, io non ho molta dimestichezza con il termine inglese però per farvi capire che il reshoring è esattamente il contrario della delocalizzazione. Ci si è accorti che la globalizzazione e la delocalizzazione hanno portato molti ma molti aspetti negativi rispetto a quelli positivi dei primi anni e adesso si sta cercando di ritornare nella produzione e nella ricostituzione delle filiere a delle realtà più nazionali o se non altro unionali. Ci sono anche alcuni articoli di legge che nel settore sanitario sono importanti, l'articolo 31 del decreto legge del 73 prevede questo credito d'imposta, qui magari possiamo andare un po' più veloci e l'obiettivo è sempre quello di potenziare la ricerca, promuovere lo sviluppo e la riconversione industriale. Volevo citarvi, l'ho messo in questo, li ho citati poc'anzi, sono strumenti giuridici messi a disposizione che in alcuni settori hanno dato dimostrazione di aver funzionato. tra le ultime misure è quella prevista dal decreto 50 del 2022 e cioè il provvedimento, l'articolo la cui finalità è quella di attrarre investimenti esteri, anche questo ha la sua importanza e qui viene citato questo termine di cui ho parlato poc'anzi. Andiamo rapidamente, anche qui questo articolo di un decreto recente del maggio del 2022 ha istituito sempre nello stato di previsione del Mise un fondo per il sostegno alle imprese danneggiate alla crisi ucraina. Queste vedete sono delle misure, come dicevo prima, orizzontali o comunque trasversali nel senso che coprono tutti i settori industriali. Questa era per farvi una panoramica, una cosa da sottolineare in conclusione e cioè che la stragrande maggioranza, per non dire tutte, di queste misure che vi ho citato, di questi progetti, di queste realtà si basano tutte su ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e quindi sono tutte proiettate verso la ricerca di nuovi strumenti anche attraverso l'innovazione tecnologica per cercare di rendere sempre più, come si vuol dire, efficiente e attraverso delle idee diciamo nuove che però possono avere una ricaduta da un punto di vista diciamo industriale, quindi per risolvere i problemi concreti. Quindi noi ci troviamo a fianco del Ministero di Salute e del MUR molto ma molto volentieri e siamo impegnati per cercare soprattutto anche di non, ma lo diceva il professor Ippolito, di non replicare, cioè di non avere sovrapposizioni o di obbligazioni. Grazie. Allora ringraziamo velocemente il dottor Montemagno anche perché l'escursus è veramente grande e poi chiaramente mi è piaciuto ricordare alcuni di questi strumenti non nascono necessariamente per la salute ma quando parliamo di ricerca e innovazione è una condizione abilitante anche poi per quelli che sono grossi progressi nel mondo della salute. Adesso incrociamo le dita, stiamo ricaricando la presentazione del dottor Didonato. Questa è la messa? Questa è qua. No, dunque come si chiamava? Ti ricordo il nome? L'ho caricata. Tra quelle che vedi ti riperi il report. Magari nella cartella del 10 luglio. Eccola qua, è questa qui, giusto? Sì. Pare che funziona. Ok, ripassiamo velocemente. Grazie. Antonio, la parola a te, il dottor Didonato, direzione generale... La funzione del PNRR. PNRR che c'entra cosa? In realtà c'entra tanto perché adesso vedremo subito le motivazioni. Riprendo rapidamente, cerco poi di andare alle parti importanti dell'intervento. Cito giusto alcune parole su cui la Ministra è spesso tornata, sono parole chiavi che poi ritornano in tutte le iniziative che troviamo, e sono i concetti di massa critica, quindi vista la dimensione finanziaria degli interventi, diciamo viene molto valorizzata la massa critica in termini di unità di ricerca, in termini di esperienza. E sugli impatti che in tutti gli avvisi che abbiamo pubblicato costituiscono sempre un elemento di valutazione. Tutta la misura, tutti gli interventi PNRR passano per rafforzamento di capitale umano e rafforzamento di infrastrutture di ricerca, come vedrete più avanti. Come tutte le misure del PNRR, l'importanza viene data chiaramente non solo alla qualità e alla necessità di recuperare competitività per il Paese, ma l'importanza viene data anche al superamento dei divari, non solo di genere, ma territoriali, con la famosa quota sud che spesso viene citata. attraverso le leve di intervento che, come vi dicevo, sono persone, capitale umano, infrastrutture, innovazione e una grandissima parte di formazione con gli interventi che andremo a vedere. Vado rapidamente sulla, come vi dicevo, il PNRR Moore ha due componenti sostanzialmente. La prima che si chiama, diciamo, dagli asili nido alle università, per far capire proprio l'obiettivo che è quello di arrivare a un miglioramento degli accessi alle università e quindi anche a rendere più rapido il passaggio tra il mondo del lavoro al mondo del lavoro da parte dell'università. Ci sono, come vedete, una serie di misure, ma anche e soprattutto una serie di riforme. Tra queste, ovviamente alcune di queste, diciamo, hanno proprio l'obiettivo di migliorare e rendere più aderente l'offerta formativa a quelle che sono le richieste del mondo delle imprese. Per quanto riguarda, invece, la parte che più si avvicina e che più include, diciamo, le attività di trasferimento tecnologico, che è la componente 2, dalla ricerca all'impresa, su questa misura troviamo una serie di interventi. L'obiettivo di questi interventi trasversali è quello di rafforzare la ricerca e soprattutto di sviluppare sinergie tra università e imprese. Come avremo modo di vedere, in tutti gli interventi, anzi, nella maggior parte degli interventi che sono già partiti e altri sono in corso, vedrete che viene molto stressato il concetto di partenariato pubblico-privato attraverso un modello organizzativo nuovo, che è il modello Hub & Spock, a cui credo ormai tutti ci siamo un po' abituati nella definizione, ovvero di un centro capofila, diciamo, che in qualche modo segue le attività degli Spock che poi hanno una concentrazione tematica ma anche una localizzazione territoriale ben definita. Questo modello, per quanto riguarda le iniziative MUR, ma poi, diciamo, anche in collaborazione con il Ministero della Salute e grazie anche al tavolo congiunto che abbiamo con il MISE, viene replicato su molte iniziative, anche e soprattutto per favorire la partecipazione delle imprese. Vi dicevo rapidamente gli interventi che sono previsti da questa misura, forse molti li conoscete. ci sono varie iniziative, diciamo, a carattere sistemico che sono nate attraverso un documento di linee guida che è stato adottato dalla Ministra ad ottobre per le quattro iniziative sistemiche che sono i campioni nazionali, gli ecosistemi, i partenariati e le infrastrutture di ricerca. Questo modello è stato poi replicato in collaborazione con il Ministero della Salute per quelle iniziative di ricerca e per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale. Le linee guida sono state firmate dai due Ministri, Mur e Salute, il 28 gennaio. Nell'ambito di queste linee guida, proprio per favorire la complementarietà delle misure, evitare le duplicazioni e le sovrapposizioni, il Ministero della Ricerca ha individuato la necessità di finanziare quattro iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale e l'obiettivo finale è quello di sostenere quattro grandi iniziative che trasversalmente intercettano tematiche relative a robotica e strumenti digitali, monitoraggio a distanza, re-ingegnerizzazione dei processi e data mining. Su questo aspetto poi ovviamente il Ministero della Salute è intervenuto a completamento con il bando degli ecosistemi salute tutto diciamo a valere su risorse nazionali del piano complementare. Per quanto riguarda l'avviso del Ministero della Università della Ricerca come potete vedere è un avviso che vale 500 milioni di euro le cui candidature si chiudono il 19 agosto. Purtroppo i tempi come potete immaginare non sono felicissimi non solo nell'estensione ma anche in sovrapposizione con la pausa estiva però come capite bene il PNRR e di conseguenza anche il complementare ha delle tempistiche molto molto stringenti e ha la necessità di arrivare alla messa a terra in ogni caso di queste iniziative per la fine dell'anno. quindi tra le attività di presentazione più un'attività di valutazione che viene svolta attraverso dei revisori internazionali ovviamente diciamo l'obiettivo è quello di cercare di traguardare la scadenza di dicembre 22 per arrivare alla definizione dei progetti che saranno finanziati. Il PNRR Murma diciamo un po' in generale ma nel caso specifico nostro vi è una grandissima intersezione tra quelle che sono le riforme abilitanti e di conseguenza gli investimenti che poi dovranno essere attuati. Vedete qui sono citate diciamo le riforme delle classi di laurea delle lauree abilitanti della legislazione sugli alloggi che forse in questa sede diciamo è meno importante e la riforma sui dottorati. Non ultima l'attuazione della riforma sulla semplificazione dei fondi destinati alla ricerca e sulla mobilità dei ricercatori. Queste riforme hanno sostanzialmente l'obiettivo di accelerare in qualche modo anche l'attuazione degli investimenti e dei progetti di ricerca e non ultimo quello di favorire l'interscambio anche di capitale umano tra mondo della ricerca pubblica e mondo privato. Come poi vedrete diciamo un focus in particolare sui dottorati industriali. Vi dicevo al 30 giugno trovate in questa slide quelli che sono i finanziamenti, i bandi che si sono chiusi e le risorse che sono state assegnate. Prima di tutto i 5 centri nazionali che hanno assorbito circa 1 miliardo e 600 milioni di euro come sapete i 5 centri che riguardavano la mobilità sostenibile, le biotecnologie, l'agritech, i calcoli ad alte prestazioni e in particolare in ambito salute la terapia genica e i farmaci su tecnologia RNA sono stati individuati anche qui attraverso un processo di valutazione che in una prima fase ha coinvolto valutatori esclusivamente internazionali e poi con una seconda fase di negoziazione condotta a livello nazionale per andare ad individuare diciamo quelle che erano puntualmente le risorse e gli eventuali ambiti di correzione e modifica delle iniziative proposte. Per quanto riguarda il centro nazionale sulla salute il soggetto proponente è l'Università di Padova il finanziamento assegnato vale oltre 320 milioni di euro. Per quanto riguarda invece gli ecosistemi dell'innovazione anche qui una misura che ha una vocazione più territoriale infatti il ministero non aveva dato delle tematiche specifiche su cui concentrate l'attenzione dei proponenti ma in qualche modo voleva far emergere dalle strategie di specializzazioni regionali quelle che erano le tematiche su cui ogni singola regione o gruppi di regione intendevano focalizzare il proprio intervento. Abbiamo sostenuto 11 ecosistemi dell'innovazione per un totale di 1 miliardo 240 milioni di euro con una media di interventi di circa 100-110 milioni di euro ho evidenziato quello che è l'ecosistema che nella candidatura stessa si è definito come ecosistema in ambito salute ma ho ritenuto utile riportarvi anche altri ecosistemi quello della Sardegna della Liguria scusate e della Sicilia dove in realtà pur non essendo un ecosistema diciamo così etichettato in ambito salute ma fortemente integrato con le tematiche della salute e soprattutto con quello delle tecnologie e biotecnologie. Infine due bandi relativi alla stessa misura infrastrutture di ricerche e infrastrutture tecnologiche ed innovazione su infrastrutture di ricerche sono state finanziate 24 infrastrutture di ricerca per ora perché poi ci sarà diciamo una fase 2 che dovrebbe terminare in ogni caso entro questo mese per raccogliere quelle ulteriori iniziative che beneficiano di residui su altre misure anche qui la delle 24 infrastrutture vi è questa su European Brain Research Infrastructure che diciamo è autonomamente definita come polo nazionale di una rete distribuita europea in ambito salute sulle infrastrutture tecnologiche ed innovazione invece per la prima volta diciamo è stata finanziata un'iniziativa che verrà realizzata poi nel tempo esclusivamente attraverso lo strumento del partenariato pubblico privato in ambito di infrastrutture tecnologiche ed innovazione su questo vi è una necessaria diciamo così partecipazione di soggetti privati per una componente pari al 49% della dotazione e anche qui diciamo vedete diverse iniziative in ambito salute ma qui poi diciamo la parte più operativa sarà gestita dagli enti che dovranno poi costituire questi partenariati proprio attraverso delle specifiche aggiudicazioni che faranno verosimilmente a partire già da settembre per individuare quei partner tecnologici che meglio diciamo rispondono alle esigenze di realizzazione di questa tipologia di infrastrutture Antonio riusciamo un pochino a stringere grazie ripeteremo qualche secondo sui bandi in corso che su cui ancora diciamo non siamo arrivati a una definizione sui partenariati estesi un diciamo un accento lo porrei sui dottorati di ricerca innovativi dove in questo caso vi è la è prevista la partecipazione per il 50% delle aziende dovremo finanziare circa 5.000 dottorati industriali 5.000 all'anno per i prossimi tre anni e qui siamo ad una riapertura dei termini che verosimilmente partirà dalla settimana prossima fino a settembre proprio perché nella prima tornata non c'è stata una grandissima partecipazione soprattutto dalla parte delle imprese quindi diciamo cogliamo l'occasione anche per stimolare la parte privata a partecipare a queste iniziative vi dicevo c'è il progetto 30 sui PRIN credo sappiate già di cosa si parla abitualmente mentre invece l'ultima grande iniziativa è questa che riguarda la attrazione favorire il rientro in Italia di quei ricercatori che sono aggiudicatari di ERC marichiori o che sono diciamo destinatari di silova excellence e troveremo una modalità per cui questi ricercatori poi possano rientrare in Italia negli universi italiani per portare a termine la loro ricerca le ultime opportunità a beneficio diciamo della platea di questa sala è che come sapete forse sapete tutte le nostre iniziative sistemiche quindi centri ecosistemi e partenariati prevedono al loro interno una componente di misura importante tra un minimo del 10 o un massimo del 50% di iniziative che si chiamano cosiddetti bandi a cascata ovvero i soggetti pubblici all'interno individueranno a loro volta quei partner che dovranno realizzare specifiche attività di ricerca e che non possono essere realizzate all'interno del partenariato già costituito la stessa misura vale anche per il progetto 30 in ambito salute le cui candidature sono ancora in corso di definizione vi ringrazio e chiedo scusa per essere stato no no stiamo cercando di recuperare grazie grazie a voi grazie ai tempi c'era una puntualizzazione Giuseppe che volevi fare su quello che diceva per i centri nazionali in ambito salute noi il ministero della salute al centro nazionale antipandemico che con legge dello Stato è a Siena di cui recentemente è stato approvato lo statuto della presidenza del Consiglio ringrazio per la precisazione scusate siamo in diretta a questo punto in collegamento in realtà non abbiamo Paolo Bonaretti abbiamo solamente Marco Zibelini quindi direi anche perché il tempo è quello che è di passare intanto a lui vediamo se poi riusciamo a recuperare Bonaretti dottor Zibelini direttore direzione tecnica e scientifica di Farma Industria e chiaramente partner essenziale di questa giornata perché ripeto questa giornata nasce da una promozione di Farma Industria e di Apre spero che ti sia il tuo microfono mutato perché perché il tuo microfono è aperto non ti sentiamo abbiamo già finito l'intervento però abbiamo una backup solution in sala si sta parlando ma non sentiamo aspetta eccolo ho capito vai vai perché abbiamo un'unica fonte di trasmissione in questo momento è questa dottor Zibelini aspetta che facciamo una verifica se stanno collegando l'audio del pc in sala no qui le uscite sono tutte abilitate in questo momento per cui bisogna che vada in sala in diffusione lui ce l'ha il collegamento dell'audio allora intanto Mauro sto tu hai il collegamento telefonico con il dottor Zibelini possiamo sentirlo così ci teniamo in contatto perché probabilmente lui ci sente ma noi non riusciamo a mandare il suo audio sì sì ma per noi è tutto è tutto ma non lo sentiamo ma non lo sentiamo posso vedere una cosa no quella era infatti stavo provoendo verificando questo no no perché quello sopra è il microfono non è che sta andando con l'htma il componente audio non credo semmai dalle impostazioni no volevo doverlo qui no qui non possiamo fare molto perché mi piace solo quello altoparlante il microfono è quello che funziona perché lui ci sente il videocamera va bene sì quindi è apposta questo non lo so perché vado a vedere su un attimo magari si può telefonare se mette il cellulare per il tuo si facciamola come niente Mauro proviamo col cellulare sì se va in giro se lancio una presentazione paradossalmente quella la vediamo no non ha rispettato si ti faccio ti faccio far tutto ti confermio ti metti in valore allora ci proviamo con il microfono come facciano proprio gli antichi adesso vediamo che succede in quel caso però consiglierei di chiudere il ritorno sul collegamento dove è la mia voce eccolo no c'è un ritorno aspetta 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 perfetto niente visto anche le difficoltà di collegamento buongiorno a tutti mi scuso di non essere in presenza oggi per banali motivi di mobilità urbana però cercherò di arrivare di essere di raggiungervi più tardi comunque ringrazio per questo collegamento perché mi faceva piacere essere presente appunto come farmindustria avendo organizzato questo evento proprio per sviluppare queste sinergie tra la ricerca scientifica e il mondo industriale l'obiettivo di farmindustria è quello proprio di riuscire ad attrarre investimenti dare valore alla ricerca per lo sviluppo del paese quindi tutte queste attività che portano e che potranno portare ulteriori investimenti a quelle che già l'industria fa nel settore ricordo che ogni anno circa 3 miliardi di euro vengono investiti dall'industria dalle imprese del farmaco 1 miliardo e 4 in produzione 1 miliardo e 6 in ricerca e sviluppo di cui 700 milioni in ricerca clinica però l'attività che abbiamo avviato quest'anno è stato proprio quello di aiutare l'azienda a capire altri aspetti di investimenti altri fondi tra cui ovviamente quello del PNRR è stato citato prima nell'intervento precedente un lavoro che abbiamo fatto per avviare il centro nazionale di sviluppo di farmaci con tecnologie mRNA e terapia genica dell'università di Padova 49 enti partecipanti e 16 aziende farmaceutiche abbiamo fatto recentemente un incontro con le aziende e gli organizzatori del progetto Innovative Health Initiatives che è il nuovo titolo modo sigla dell'Innovative Medicine in passato e abbiamo organizzato questo incontro proprio per presentare quelle che possono essere le iniziative e creare anche in quel caso un collegamento diretto tra ricercatori e industrie facciamo delle attività cerchiamo di attivare anche piattaforme di sviluppo tecnologico e più tardi il dottor Sava presenterà un'altra iniziativa che abbiamo sviluppato con la società di farmacologia che è la piattaforma Innovation Flow che mette proprio a disposizione la possibilità di contatti tra ricercatori industrie e adesso attualmente l'abbiamo aperto anche a altri incubatori di comunque altre aziende e altre organizzazioni che lavorano sempre sul trasferimento tecnologico ecco questo è un po' lo spirito con cui Farmi Industria sta cercando di aiutare e di facilitare queste possibili collaborazioni pubblico privato io vi ringrazio di nuovo per essere presenti e so che in sala Mauro mi ha detto che la sala è piena quindi spero che gli incontri siano anche poi molto profigui per attivare queste collaborazioni e ridò la parola agli organizzatori per andare avanti poi nell'operatività della giornata grazie ancora e scusate per non essere presenti con voi spero che ci puoi sentire attraverso il microfono vabbè c'è stato un applauso grazie al dottor Zibellini siamo in una situazione da far west come come dimensione digitale diciamo però che a questo punto io prima di salutare ringraziare i partecipanti a questa prima tavola guardo guardo le mie colleghe di apre prima di chiamare la seconda ditemi un po' come dobbiamo andare avanti se avete un'idea la condividi anzi condividetela direttamente ci sto percorrere adesso dovrebbe funzionare devo far partire un secondo fatto tecnico e adesso ci sentiamo anche noi beh piano piano domani saremo a regime non c'è problema si è rotto un cavo si è rotto un cavo va bene grazie se poi ci raggiungerai oggi ci avremo la possibilità di stare insieme comunque grazie ancora stacco il microfono per evitare sovrapposizioni di lupo in questo momento il dottor Bonaretti non so se è collegato non è collegato ok va bene allora do una informazione di servizio chiaramente per per riuscire a recuperare saltiamo la pausa caffè e cerchiamo di andare avanti con la nostra mezz'ora buona di ritardo di conseguenza chiaramente si conferma la pausa pranzo alle 13 inizieremo i pitch su per giù alle 12 è qualcosa e chiaramente non cambiano diciamo gli orari che vi hanno che vi hanno comunicato se non appunto per calcolate sempre questa mezz'ora di ritardo e la sequenza chiaramente dei pitch di conseguenza seguiranno anche gli incontri bilaterali che anche loro avranno questa mezz'ora di ritardo quindi grazie a tutti per la pazienza queste sono le comunicazioni di servizio ci vediamo quindi per la pausa direttamente al pranzo alle 13 grazie allora scusate per questo tirare un po' il collo io intanto diciamo libero i nostri i primi ospiti quindi ringrazio il professor Ippolito il dottor Didonato e il dottor Montemagno e chiamo immediatamente faccio una lettura velocissima a questo punto dei panelist della successiva sessione chiamo Laura Spinardi responsabile dell'ufficio trasferimento tecnologico dell'IRCCS che ha grande ospedale maggiore Francesca Pasinelli direttore generale fondazione Telecom Vera Codazzi commissario espressione degli enti territoriali sul cluster tecnologico nazionale scienze delle vite di sei Fabio Bianco chief scientific officer di Bio4Dreams Ciro ospedaliere managing partner Clarice Venture e Maria Candida Cesta Dampè farmaceutici allora siamo più numerosi di quelli della precedente tornata quindi sarà ancora più complesso quindi questi dovrebbero essere 00 e 05 la prima prana Marile no no adesso vi lascio vi lascio la mia è previsto che io stia in piedi lì allora considerando che io sarò in piedi cercherò di essere più severo con i tempi insomma così allora allora cominciamo dunque io sto cercando di ricordare chi di voi ha delle presentazioni ma credo diverse no nessuno allora mi ha mandato su una falsa pista allora avevamo previsto un po' di chiacchierate alcune domande ci eravamo sentiti il tempo è molto è molto questo va in partenza da solo o un bottone da qualche parte hai già acceso perfetto è vero allora cominciamo da Laura Spinardi e vi chiedo anche io vi ho fatto una brevissima introduzione per cui a questo punto per accelerare senza che io mi metta a leggere evidentemente i vostri profili vi chiedo comunque di fare anche una 20 secondi di introduzione di voi stessi che così è sicuramente più efficace ora quindi partiamo dal ritorniamo al tema di oggi alcuni di voi sono rappresentanti di diverse anime degli attori che compongono il ragionamento che stiamo cercando di svolgere oggi cioè quello di capire in che maniera rafforzare questo dialogo tra ricerca e industria fondamentalmente io direi facciamo un primo passaggio una battuta da ciascuno di voi quindi seguiremo l'ordine che abbiamo detto se abbiamo un attimo di tempo cercherò poi di ritornare perché se ci mettiamo a fare adesso un discorso sulle domande rischiamo di perdere ancora più tempo allora cominciamo dalla dottoressa Spinardi buongiorno grazie innanzitutto consentitemi di ringraziare sentitamente gli organizzatori per questa giornata che secondo me rappresenta rappresentando io la prima il primo tassello di un trasferimento tecnologico nell'ambito delle live science un momento importantissimo perché devono incontrarsi sin dall'inizio il primo e l'ultimo tassello di una filiera complessa come quella del live science sono Laura Spinardi responsabile dell'ufficio di trasferimento del Policlinico Maggiore di Milano e ho un background scientifico e mi occupo di trasferimento tecnologico ormai da quasi 15 anni e quindi l'importanza di questa giornata è per fare un po' il punto di quello che in questi anni abbiamo così lavorato tutti molto con dedizione soprattutto perché vorrei portare alla vostra attenzione il perché l'innovazione nell'ambito delle live science è importanti perché l'impatto più immediato è una migliore cura nei confronti dei pazienti e forse in questa filiera che rappresenta proprio l'alfa e l'omega di tutto il percorso un'associazione pazienti poteva essere quell'elemento di chiusura di tutta la filiera una successiva battuta forse ci sarà passiamo direttamente alla seconda persona la dottoressa Pasinelli direttore generale fondazione Teleton non c'è bisogno di una presentazione forse su fondazione Teleton però anche fondazione Teleton ha un ruolo importantissimo tra la ricerca di base e poi lo sviluppo di prodotti o soluzioni o farmaci che arrivino veramente e so che non è sempre facile specialmente quando si parla di malattie legate a certe dimensioni che non sono così comuni e che quindi non giustificano evidentemente una serie di attenzioni dalla parte del mercato prego sì in un certo senso Laura Spinardi mi ha dato diciamo mi ha offerto Emulà perché noi come fondazione Teleton nasciamo come espressione proprio di gruppi di pazienti quindi l'associazione pazienti è rappresentata attraverso di noi perché noi siamo stati fondati da associazioni di pazienti che si sono costituiti come gruppo di interesse in virtù della rarità della loro malattia hanno chiesto che noi finanziassimo ricerca per trovare delle soluzioni di cura all'origine per comprendere i meccanismi alle basi di queste malattie quindi tanta ricerca di base e poi anche per trovare delle soluzioni di cura nell'arco di 32 anni noi credo che abbiamo attuato un modello di trasferimento tecnologico che ci ha permesso anche di fare proprio presviluppo quindi vista la rarità delle malattie di cui ci siamo occupati in particolare con questa tecnologia innovativa all'epoca che era questa terapia genica che è stata messa a punto veramente a fondo in Italia credo per la prima volta ci siamo fatti carico di trasformare questa ricerca in un farmaco in farmaci attraverso intanto l'adozione di modelli di primo sviluppo fatti all'interno della realtà accademica quindi vista la rarità di queste malattie e lo scarso interesse industriale noi come fondazione Teleton abbiamo costruito al nostro interno delle piccole competenze farmaceutiche per abilitare lo sviluppo delle terapie in modo da garantire un trasferimento all'industria di qualche cosa che fosse così evoluto nello sviluppo da diventare un pochino più attraente nonostante la rarità della malattia ora credo di poter dire oggi che noi ci stiamo e questa operazione ha funzionato quindi è stato un trasferimento tecnologico virtuoso credo perché ci sono state anche aziende molto interessanti diciamo proprio in questi mesi stiamo sperimentando il limite di tutta la difficoltà legata alla rarità noi siamo reduci da questa delusione molto grande del fatto che diciamo di due delle terapie che abbiamo già licenziato all'azienda una che è già registrata addirittura quindi è disponibile in commercio ed è a tutti gli effetti una terapia salvavita questo Stringvelis l'azienda che l'ha in licenza ha comunicato di volere rinunciare la registrazione quindi togliere la registrazione quindi togliere il farmaco dal commercio per un'insostenibilità economica sostanzialmente e quindi diciamo in continuità con la missione che ci siamo dati dall'inizio e cioè di dare voce e risposta a ogni paziente nonostante la sua rarità in questi giorni stiamo studiando il Teleton 5.0 diciamo e quindi stiamo costruendo una nuova entità legale sempre una fondazione che si farà carico anche della registrazione e della distribuzione di questi farmaci per malattie ultra rare perché naturalmente essendo farmaci salvavita non possiamo permettere che ci siano bambini ancorché molto pochi che non possano avere accesso a queste terapie quindi in un certo senso stiamo chiudendo il cerchio ma tutto all'interno di una realtà non industriale perché non c'è dubbio che le malattie rare soprattutto quando ultra rare continuino a restare una sfida ancora non risolta anche per la stessa industria quindi ottimo anche se paradossalmente vi siete dovuti far carico anche avete superato il trasferimento tecnologico perché avete inglobato all'interno tutta una serie di processi oltre quello scientifico che vi stanno quasi avvicinando al mercato quindi è una forma indiretta andando a costruire un dossier proprio regolatorio perché uno degli altri temi si parla molto di trasferimento tecnologico ma un altro degli elementi importanti è che laddove vengano sviluppate delle terapie in un ambito in un contesto accademico si lavori per come dire sviluppare queste malattie secondo dei criteri diciamo validi sul piano regolatorio quindi costruire dei dossier che possano a tutti gli effetti essere trasformati in farmaci e quindi agevolare eventualmente anche un finale trasferimento al mercato questa è la garanzia di poter mettere a disposizione di questi pazienti ancorché appunto con malattie molto molto rare ma la stessa identica qualità che è auspicata e che è richiesta per farmaci invece molto più diciamo che interessano gruppi molto più anti molto bene chiarissimo ringrazio la dottoressa Pasinelli Vera Codazzi passiamo al cluster Alisei qui già un contesto nel quale si mette insieme in teoria già ricerca e innovazione è l'ecosistema che dovrebbe facilitare il dialogo e lo scambio un commento buongiorno buongiorno a tutti io sono Vera Codazzi all'interno del cluster Alisei rappresento uno dei soci e sono anche espressione all'interno della commissione direttiva espressione della componente territoriale come appunto diceva poco fa il direttore di Apre il cluster Alisei nasce proprio per creare un punto di contatto un luogo dove tutti gli attori che lavorano nell'ambito delle scienze della vita possano trovare i punti comuni possano trovare punti comuni possano lavorare assieme e quindi è per questo che noi cerchiamo di lavorare da una parte con la ricerca ma metterla in contatto con le istituzioni e alla fine con il mondo dell'impresa all'interno di Alisei infatti noi abbiamo da una parte tutto il mondo della ricerca quindi gli enti di ricerca nazionali le associazioni di categoria che rappresentano le principali industrie del settore delle scienze della vita quindi dalla farmaceutica dispositivi medici e infine ci sono tutti i rappresentanti territoriali i territori sono rappresentati dai singoli cluster i cluster all'interno del proprio territorio sono ancora una volta associazioni pubblico private quindi all'interno di ogni territorio c'è una realtà che cerca di mettere in contatto tutta la filiera e Alisei poi è un ulteriore punto di collegamento tra tutti i territori sul suolo italiano noi lavoriamo quindi cerchiamo di stimolare una serie di progetti siamo a disposizione sempre per mettere in contatto i vari attori e come cluster poi organizziamo come Alisei grazie a supporto dei singoli soci dal 2014 un evento dedicato alle scienze della vita che è nato proprio per mettere in contatto i vari attori è fondato su due giornate di matching e poi ci sono alcune sessioni parallele di approfondimento quindi diciamo questa è l'attività concreta che si sviluppa ogni anno grazie insomma i cluster nazionali sapete al di là di quello che è Alisei hanno un ruolo o comunque dovrebbero avere un ruolo all'interno di un disegno che ormai credo che sono parecchi anni dal 2012 più o meno 10 anni facciamo con i cluster nazionali insieme ai tempi in cui Raffaele Liberali era al ministero quindi era nel 2012 quindi è un ulteriore attore che sicuramente è parte di questo ragionamento soprattutto perché dovrebbe mettere insieme realtà sia di ricerca sia di mercato allora andiamo verso il mercato Fabio Bianco Chief Scientific Officer di Bio4Dreams qui siamo in ambito start up siamo un incubatore che ha come obiettivo proprio quello di andare a selezionare e portare in evidenza direi nell'ultimo miglio perché dovete creare impresa su quelle che sono nel settore evidentemente salute e baglio e questo è il vostro settore allora che cosa sta succedendo potremmo parlare di start up tantissimo noi come Apre sull'European Innovation Council siamo profondamente coinvolti e preoccupati per tante cose come lo è il ministero che succede sul fronte invece della vostra esperienza buongiorno a tutti prima più che ultimo miglio forse il primo miglio ultimo miglio della ricerca il primo miglio del buongiorno a tutti io sono Fabio Bianco responsabile scientifico Bio4Dreams Bio4Dreams è un incubatore certificato dal MISE che si occupa di start up lo fa come incubatore totalmente privato e lo fa in una fase molto precoce in verticale sulle scienze della vita in una fase che chiamiamo very early stage cioè quando il progetto è pronto per uscire da un contesto accademico di ricerca e è pronto a fare i primi passi verso il mercato esistono due tipologie al nostro modo di vedere di aziende che sono pronte a fare questo passo ci sono i progetti gli asset già maturi che però interloquiscono con chi viene subito dopo cioè con chi è in grado di costruire un team solido per portare il progetto avanti ma c'è una miriade di progetti che devono ancora fare dei passi e lì la cosa fondamentale è evitare perte di tempo di risorse abbiamo sentito ce ne sono tante e il vero punto critico è utilizzare bene i soldi evitare repliche di cose già esistenti e interloquire con il mercato per capire se l'idea che si vuole sviluppare ha veramente senso circa il 42% delle start up nelle scienze della vita sviluppa cose che non servono al mercato quindi evitare di finanziare un mondo che poi non porta valore aggiunto è uno dei motivi per cui Bio4Dreams è nata e stiamo cercando proprio di lavorare in questo settore ti ringrazio perché farò un commento eventualmente sulla parte del venture appena sentiamo anche la seconda testimonianza Ciro Spedaliere Clarice Venture ancora siamo nel mondo del venture quindi se vuoi aggiungere un attimo alcune considerazioni poi io farò una battuta su tutti e due sì allora buongiorno a tutti sono Ciro Spedaliere sono fondatore di Clarice Venture che è un nuovo operatore di venture capital italiano completamente focalizzato su un investimento in start up che stanno sviluppando nuovi potenziali farmaci siamo partiti nel 2020 abbiamo 85 milioni in gestione e un po' la nostra tesi di investimento e il nostro lavoro sì cerchiamo di lavorare con start up già costruite molto spesso ci troviamo anche a lavorare direttamente con dei ricercatori perché in apertura dei lavori nel panel di prima si citava il fatto che l'Italia è terza a livello europeo per produzione scientifica c'è una ricerca di nature molto interessante del 2019 che fa vedere sì questo grande impatto della produzione scientifica italiana che però trasla poco diventiamo settimi per numero di brevetti e tredicesimi per numero di start up che si creano quindi diciamo su questa opportunità del sistema italiano si va a inserire la nostra tesi e andiamo a cercare anche un po' di lavorare direttamente con gli scienziati andando a intercettarli dove c'è una ricerca che possa essere interessante allora lavoriamo un po' a quattro mani con lo scienziato per creare la start up noi di solito lavoriamo in una fase preclinica i nostri investimenti sono circa dei tagli sui 4 milioni ma attraiamo altri co-investitori quindi ad oggi abbiamo fatto dei round di investimento da diciamo 8 milioni al più grande che 23 milioni attraendo diciamo il doppio delle risorse di quello che noi investiamo e la cosa interessante è che siamo riusciti a convogliare anche da attori internazionali investitori internazionali soldi che sono andati a finire in progetti italiani quindi diciamo metà dei nostri co-investitori sono internazionali grazie una battuta velocissima a tutte e due se mi date 20 secondi ma lo faccio vorrei da tutte e due perché ripeto il problema per noi su una lettura europea ma è molto molto caldo l'avete detto entrambi in particolare il dottor Bianco prima quando parlava quando ha fatto il suo intervento ma oggi il problema per i venture da una parte e per i ricercatori italiani dall'altra qual è? è quello di andare a cercare buone idee che mancano o è quello di fare un accompagnamento di buone idee perché è vero la conoscenza italiana cioè la produzione di conoscenze italiane in campo salute è molto elevata ma manca poi fondamentalmente quello che voi spesso andate a cercare quando fate una decisione sul vostro investimento cioè una robustezza imprenditoriale una capacità manageriale di un certo tipo una robustness generale che possa portare a dire siete credibili come soggetto da mercato c'è bisogno di accompagnarli o c'è bisogno solo di andare a selezionarli meglio quindi togliere quelli che non sono pronti perché è una scelta legittima da parte di un venture oppure in qualche modo anche i venture devono farsi parte di un'azione di promozione e concorrere alla crescita di questa cultura che spesso manca nel giro scienziato nel ricercatore o anche nella piccola start up che si è creata battuta veloce su questo tutte e due ma io dico la mia opinione credo che dipenda molto dalla maturità del progetto noi viviamo in una parte del mondo dove i progetti arrivano all'ufficio di trasferimento tecnologico diciamo al momento di incontro con il potenziale mercato in una fase tendenzialmente più precoce rispetto a quello che succede nel sistema anglosassone quindi questi progetti dal nostro punto di vista necessitano ancora di iterazioni successive sul contenuto necessitano di un forte coinvolgimento del team che ha fondato il progetto poi ci sono dei progetti che invece escono da questi contesti da istituti magari che danno la possibilità ai progetti di crescere e questi hanno bisogno di quello che è il famoso company building cioè il management strutturato in grado da portare avanti il progetto noi però in realtà ci occupiamo come Byfrodeems di quelli che vengono prima di quei progettini dove in realtà c'è molto valore ma va guidato ripeto su quei progetti il problema principale non sono oggi le risorse finanziarie ma sono le competenze che mancano a completare il team per aiutare le idee migliori ad emergere quindi c'è un contributo verso la costruzione di una maggiore consapevolezza e capacità del sistema nazionale paradossalmente l'industria nel nostro modo di vedere è molto favorevole a dare un supporto in quella fase e molto vediamo dei progetti di start up che hanno bisogno di guida hanno bisogno di qualcuno che gli riguardi il piano clinico che gli faccia un insight sul mercato per guidarli meglio nella costruzione di un business plan credibile altrimenti non investibile quindi l'ospedaliere stessa battuta e poi andiamo avanti ma sì direi che un po' quello che serve appunto è che tutto l'ecosistema si strutturi sempre di più per poter supportare questa tipologia di innovazione perché ricordiamoci che nel settore nel quale io sono focalizzato il biotech quindi solo nuovi farmaci tendenzialmente le ricerche importanti vengono da ricercatori che hanno passato tanti anni a studiare un qualcosa ed è difficile che si possano trasformare in imprenditori quindi assolutamente serve che ci sia tutto un ecosistema di tecnologie transferi incubatori eccetera che possono in qualche modo strutturare tutta l'impresa intorno alla ricerca senza dover chiedere allo scienziato di fare l'imprenditore ecco lo scienziato deve continuare a fare lo scienziato anche poi nella startup che si costituirà ma appunto grazie alle competenze di incubatori technology transfer e investitori si va poi a strutturare con le altre persone che servono il team per poi sviluppare l'asset lungo le fine della fase clinica molto chiaro allora siamo arrivati proprio a questo punto sul downstream siamo arrivati all'industria Don Pe dottoressa Cesta il commento di chi è il recettore di tutto questo trasferimento esatto esatto questo è il nostro ruolo oggi ed è il piccolo contributo che voglio dare a nome anche dell'azienda di cui faccio parte intanto buongiorno grazie all'Avra e Farmindustria per questa opportunità mi chiamo Maria Candida Cesta e sono direttore e coordinatore delle collaborazioni scientifiche e del funding di Don Pe farmaceutici quindi anch'io ho un background scientifico e nella mia carriera in Don Pe ho attraversato un po' tutte le fasi dal laboratorio al project management al business development per atterrare quindi sul funding e quindi conosco un po' diciamo ad ampio spettro la progettualità dell'azienda e come le collaborazioni pubblico privato per un'azienda come la nostra che ha una dimensione media è una grande impresa in Italia ma rapportata al panorama europeo è un'azienda di medie dimensioni è fondamentale per gli obiettivi della ricerca sicuramente per noi come dicevo la centralità delle interazioni pubblico private non possono prescindere da tutto quello che abbiamo imparato in questi ultimi due anni con il covid la cosa principale che abbiamo imparato è che non si vince mai da soli le aziende non possono andare avanti da sole ma la necessità di mettere a sistema le competenze pubbliche e le competenze private le competenze manageriali e quelle scientifiche tipiche degli scienziati dell'accademia sono assolutamente essenziali per il successo in questo senso in questo senso l'esperienza del covid ha dimostrato anche proprio il covid è stato per noi lo definiamo un catalizzatore di innovazione perché in tempi strettissimi con delle collaborazioni accelerate le imprese sono riuscite a trovare nuove armi per combattere una pandemia che ci ha colti veramente di sorpresa e quello che ci aspettiamo è che questo catalizzatore diventi un modus operandi non sia un'eccezione non rimanga un'eccezione noi non abbiamo bisogno soltanto di lavorare sul covid ma le emergenze sanitarie le conosciamo tutti le patologie rare di cui parlava Francesca poco fa le grandi patologie come le cardiovascolari le metaboliche quindi dobbiamo imprimere quella accelerazione quella capacità di fare sistema tra pubblico e privato anche su tutte le sfide che ci aspettano e sicuramente in questo diciamo mi sento di rappresentare appunto l'azienda il PNRR è un'opportunità eccezionale da questo punto di vista è un'opportunità che però va accolta come tutte le opportunità nel modo giusto e con diciamo ricevendo anche da parte del pubblico che sarà il nostro principale partner in tutte queste misure sulle quali noi come azienda ma molte aziende sono impegnati diciamo cogliere gli aspetti più diciamo interessanti più sfidanti e vedere portati avanti i progetti che sono realmente progetti competitivi progetti meritocratici progetti che davvero potranno far dire tra 3-4 anni quando diciamo il PNR sarà concluso che il sistema ricerca Italia è davvero cambiato in questi ultimi anni e grazie al PNR grazie ce lo auguriamo tutti perché se no il PNR sarà un boomerang che ci colpirà dietro se non riusciamo a trasformarlo in un vero investimento allora però io torno un attimo alla dottoressa Spinardi perché prima sono stato veloce troppo veloce e battuta anche qui rapida da parte sua io la prima volta che ho presentato mi sono trovato in Europa a presentare un progetto era 32 anni fa e il mio primo progetto mi ricordo una riunione vabbè io spesso all'interno di Apri il mio staff io ripeto sempre le stesse cose dico ragazzi c'è qualcosa che non va perché io mi ritrovo a fare le stesse cose che facevo 32 anni fa è possibile che è cambiato poco adesso non nel campo salute evidentemente ma non in campo allora la battuta viene spontanea ma stiamo parlando sempre delle cose parliamo di trasferimento tecnologico sicuramente io almeno 25-27 anni e più ma si va avanti cioè o stiamo sempre dicendo le stesse cose ma è una battuta cioè un un segnale che effettivamente le cose procedono e che stanno migliorando stiamo imparando a fare trasferimento tecnologico davvero grazie una riflessione che raccolgo con un grande piacere perché credo oggi di vedere in mezzo a tutti i partecipanti e quelli che non sono potuti essere qua oggi tutti quei colleghi che da almeno 5 anni grazie alla volontà del Ministero della Salute si stanno impegnando per far crescere il trasferimento tecnologico nell'ambito del life science c'è molta confusione o spesso non si riesce a comprendere la linea di separazione tra ricerca di base fatta nell'università e ricerca traslazionale degli IRCS noi abbiamo il privilegio di lavorare negli IRCS che sono questi ospedali di grande eccellenza di cura ma anche di eccellenza di ricerca e quindi noi l'abbiamo nelle nostre corde di mission fare trasferimento tecnologico qual è il problema? purtroppo avevamo delle criticità importanti uno la consapevolezza di che cosa vuol dire fare trasferimento tecnologico io ricordo nel 2016 quando il dottor Leonardo ci chiamò eravamo 12 IRCS con un ufficio di trasferimento tecnologico dopo 5 anni siamo una rete di fatto di uffici di trasferimento tecnologico di 48 su 51 IRCS con del personale di altissima qualificazione voluto anche dal ministero della salute che ha finanziato i bandi di potenziamento per le persone che lavorano negli UTT abbiamo per la prima volta risposto a una chiamata finanziaria di un bando POC della misura delle live science non possiamo vedere dei POC di un finanziamento esiguo che corrisponde praticamente ai primi due settimane di lavoro nell'ambito medico e questi finanziamenti che si sono appena chiusi sono veramente il frutto di un lavoro di consapevolezza che il ministero ha raccolto e di questo siamo grati e abbiamo fatto formazione ai ricercatori esiste un gruppo di formazione presso il ministero per i ricercatori sul trasferimento tecnologico abbiamo esaminato tutta quella parte che rappresenta per noi IRCS perché non abbiamo normativa dedicata sulla imprenditoria i nostri ricercatori hanno un contratto nazionale della sanità non dell'università quindi tutte le cose meravigliose che ci hanno raccontato per noi rappresentano ancora un momento di criticità c'è un gruppo che ha analizzato e ha prodotto dei documenti e un regolamento per la prima volta in materia di spin off dedicato agli IRCS io credo di aver rappresentato il lavoro di tutti questi colleghi che ci hanno creduto ci abbiamo creduto e in ultimo ma non per importanza la ricognizione puntuale che è giunta alla sua sesta edizione raccoglie oggi i dati di sette anni forse anche otto perché raccoglie i dati dal 2014 su tutto quello che è il trasferimento tecnologico quindi io credo che con grande entusiasmo e orgoglio rappresento questi passi avanti che forse per molti sono piccolini ma devo dire che per noi sono stati tanto lavoro e tanto risultato e non ringrazio mai abbastanza il ministero per averci lasciato lavorare e quindi questo mi sembra grazie diciamo che quindi la direzione la direzione è quella giusta sicuramente c'è ancora tanto da fare questa giornata è anche un piccolo contributo a questo ragionamento ora io credo che guardo un po' Caterina adesso non vedo Matilde io avrei sono tanti gli spunti che mi avete dato direi che però intanto vi ringrazio per la vostra contribuzione seppur un po' stretta nei tempi e vi ringrazio soprattutto per essere stati molto attenti in questo credo che sia il caso che possiamo chiudere qui chiaramente immagino che molti di voi saranno anche parte della giornata quindi ci rivedremo in un altro momento a Vale dei Picci per un confronto e credo che sia saltato la Paola per quanto sia stato breve non credo che riusciamo a recuperare quella allungheremo un po' il pranzo facciamo così quindi grazie ancora a tutti voi per la partecipazione e a questo punto Matilde mi soppresso qualcuno? prego chiamerei il dottor Giovanni Sava per la presentazione di Innovation Flow dove sta va? Grazie. Grazie. Tutti insieme fino adesso, io sono solo, presento rapidamente quello per il quale mi hanno chiesto di parlare. Ora, io sono un farmacologo e rappresento qui la società italiana di farmacologia. La società italiana di farmacologia insieme con Farmindustria ha cominciato già da un po' di tempo una partnership che ha portato alla realizzazione di una piattaforma. Innovation Flow è una piattaforma nella quale si invitano i ricercatori delle università, dei centri di ricerca, da qualunque parte essi vengano, non solo di farmacologia, naturalmente anche se sono nati come farmacologi per fare questa piattaforma, a proporre le loro iniziative anche in una fase molto iniziale della loro ricerca. è una piattaforma che non va a simulare tutti quei rapporti che tendenzialmente le università, per esempio, fanno con i loro centri di trasferimento tecnologico o con altre piattaforme. è una piattaforma molto particolare che semplifica tutte le procedure, permette ai ricercatori di inserire un progetto su qualsiasi tipo di natura che abbia una ricaduta nella salute, anche in maniera molto informale, anche se il progetto è talmente primitivo da non avere ancora una copertura brevettuale, ovviamente ci sono tutte le informazioni per tutelare la segretezza all'interno del progetto, e nella sostanza questo modello permette di far dialogare rapidamente i ricercatori con chi? Con le aziende farmaceutiche associate a farmindustria, in primis. Questo è quello che accade, i ricercatori hanno la possibilità di inserire i loro progetti in un determinato format, e in maniera assolutamente separata le aziende di farmindustria possono accedere a questa lista di progetti e valutare se trovare o meno delle informazioni interessanti e trovare poi contatti diretti con i ricercatori che hanno postato i loro progetti. È una piattaforma molto semplice da usare, implementata di recente con una piccola innovazione, nel senso che, d'intesa con farmindustria, si è deciso di dare la priorità alle aziende di farmindustria per un determinato periodo di tempo, per la visualizzazione di un nuovo progetto. Scaduto questo tempo, che non è né breve né lungo, i progetti possono essere visualizzati anche da altri scouters che vanno a cercare progetti per vedere di valorizzarli sul tempo. Il modello è quello che ha illustrato prima il dottor Bianco sostanzialmente, cioè di andare a prendere dei progetti e vedere se questi progetti hanno una potenzialità per il futuro. Spesso bisogna dire che questi progetti, nelle mani dei ricercatori universitari, sono posti in una forma che una grossa azienda farmaceutica può far molta fatica a capire che tipo di valore potrebbe trarre leggendo la proposta progettuale o i risultati dello studio che è stato proposto. È importante quindi che ci siano degli scouters che hanno questa possibilità di far maturare, fare una specie di leverage di questi progetti, facendoli maturare e portandoli a un livello di conoscenza più approfondita. C'è un rapporto di questo tipo con una società che si chiama Innovation Circle che lavora su questo tipo di attività e che sta lavorando su alcuni dei progetti che sono presentati. L'invito naturalmente è quello di andare sul sito di Innovation Flow, è facile da trovare sul web e di dare pubblicità a tutti. Ripeto, non è competitivo con la possibilità di fare altre cose su altre piattaforme, ma ha un valore molto importante perché questa è la piattaforma vista dalle società del farmaco in Italia di farmindustria. Come dicevo, ci sono anche questi scouters tra cui quello che ho citato prima di Innovation Circle che è capace di aiutare i ricercatori a portare la loro progettualità si è ritenuta valida a un livello in cui quello che prima l'industria farmaceutica non riteneva o non vedeva, in quel momento invece può vederlo. Ecco, tutto qua. Grazie. La ringrazio molto. Grazie dottor Cava. Grazie. 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 Grazie a tutti.